semi di strega per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco come attraverso il ricordo delle antenate per dare voce al passato che è la radice del nostro potere raccontandoci storie intorno al fuoco per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna per creare un futuro libero dalle paure in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega io sono lisa creatrice del progetto spirito della natura e sarò accanto a te in questo viaggio sono felice di darti il benvenuto nella puntata del podcast di oggi dove voglio affrontare un tema che è molto attuale per la stagione sto registrando ad aprile e la natura è veramente un tripudio di colori di erbe di profumi ci avviciniamo a quel tempo nel quale le donne antiche le sagge le erbane andavano raccogliendo le loro erbe per i loro rimedi questo spesso veniva visto non molto bene perché appunto era il segno che le antiche tradizioni sopravvivevano e soprattutto in un'epoca nella quale la medicina moderna voleva affermarsi tutto quello che richiamava alla medicina antica poteva essere un ostacolo un nemico all'affermarsi di una medicina appunto moderna la medicina popolare in realtà è sempre stata però praticata nelle case nei villaggi laddove i medici non arrivavano e quindi è sempre stato importante l'aspetto di connessione con la natura e di osservazione dei cicli per poter raccogliere le piante abbiamo già accennato a come le erbane le guaritrici le streghe utilizzassero la natura per i loro rimedi ma anche per l'energia che la natura offriva in una puntata del podcast ho parlato di come le pratiche antiche le pratiche delle streghe possono essere messe relazioni in relazione alle pratiche olistiche alle pratiche moderne dove andiamo a lavorare sulla persona a 360 gradi senza tralasciare niente nessun aspetto vi ricordo che alcune delle pratiche delle streghe che ci arrivano dai resoconti e dal appunto dai grimori antichi sono proprio quelle di sciogliere nodi per esempio per liberare le energie intrappolate nella casa di un malato e quindi far rifluire l'energia della casa dell'ambiente per portare questo flusso vitale anche alla persona che viveva in quella casa l'aspetto particolare di cui voglio parlare oggi è proprio l'aspetto dell'utilizzo delle piante per compiere i propri incanti che appunto sono niente meno che guarigioni le piante possono essere utilizzate sia dal punto di vista fisico pratico e quindi utilizzarle per il loro principio attivo per le loro proprietà che portano benessere alla nostra vita oppure anche a livello sottile e quindi utilizzarle in modo più energetico possiamo ad esempio richiamare l'energia di una pianta le sue proprietà per lavorare internamente su qualcosa di noi mi è capitato ultimamente di decidere di lavorare con una pianta in maniera sottile ovviamente ho prima conosciuto la pianta ho capito che tipo di proprietà portava che carattere aveva che portamento aveva sono andata a trovarla in natura e questo è un aspetto di cui vi parlo spesso non basta meditare la pianta per poterla conoscere e farsi aiutare dalla sua energia dobbiamo anche conoscerla proprio dal punto di vista fisico e quindi capire dove vive come si sviluppa che ambiente preferisce se il sole se l'ombra in che periodo nasce in che periodo dell'anno nasce tutto questo ci dà un'indicazione di come la pianta si comporta le sue caratteristiche proprio fisiche sono poi quelle caratteristiche anche caratteriali che si riversano anche nel piano energetico e vengono in contatto con noi anche senza assumere la pianta questo è un lavoro che richiede attenzione pratica ma è un lavoro che dà ottimi risultati lavorare con le piante non sempre significa assumerle in entrambi i casi c'è bisogno di conoscerle sia che si vogliano assumere contisane rimedi o quant'altro ma anche per appunto lavorarci in maniera sottile per conoscere le piante è importante ricongiungersi a quella sapienza antica che portava le donne fuori casa nei prati nei boschi a conoscere direttamente le piante a riconoscerle ed era un insegnamento che veniva passato da maestra d'allievo quindi c'era un passaggio di tradizione tanto è vero che spesso sappiamo che i nomi botanici delle piante non erano proprio conosciuti la donna saggia spesso poteva essere la nonna o la madre spiegava faceva conoscere la pianta alla nipote o alla figlia e tramandava anche il nome popolare quindi anche nel durante i processi quando vengono nominate alcune piante che noi oggi non conosciamo sono delle piante che appunto i cui nomi erano proprio sconosciuti a queste persone qui da noi in toscana abbiamo gustanza che era una guaritrice e ha dei nomi per le piante che non sono quelli che appunto userebbe un medico quindi è molto interessante questo aspetto perché poi i nomi venivano dati anche in base alle qualità fisiche della pianta mi ricordo durante un video che ho registrato per per fabiola l'erbana dove lei per esempio parla del latte di serpente che è una pianta che semplicemente spezzandola crea questo questo latte che è un latte che brucia che brucia le verruche quindi pensate a che cosa che che pasticcio che si è creato con questi nomi popolari durante i processi quando appunto gli inquisitori poi accusavano le donne di di usare sostanze prodotti derivati dall'uccisione di animali o di bambini la borsa pastore diventa il cuore di madre ma il motivo è perché lavora la borsa pastore per esempio su aspetti del femminile lavora su aspetti della maternità quindi era ben conosciuta questa dote inoltre presenta della delle forme a cuore la borsa pastore quindi tutti in tutto quello che ci arriva dal passato ci riporta ad una osservazione ad una presenza fisica insieme alle piante a una vita vissuta con loro questo è una cosa che noi dobbiamo riprendere a fare se vogliamo entrare nella consapevolezza nella conoscenza delle piante per la nostra salute guarigione sia fisica che spirituale per questo ci stiamo impegnando tantissimo io Fabiola e Manuela a creare questo evento questi eventi saranno tre eventi dedicati alle erbe che si compiranno a fine aprile fine giugno e fine luglio se mi stai ascoltando in questo periodo del 2024 ti invito a richiedermi informazioni perché saranno tre eventi dove faremo riconoscimento delle piante proprio con una persona che saprà guidarci nel riconoscimento delle piante potremo creare il nostro erbario potremo anche capire come la pianta proprio vedendola sul campo si comporta in riferimento proprio a quello di cui vi parlavo prima fare esperienza della pianta del suo carattere del suo portamento dei suoi colori di dove di dove le piace stare questo è importante per la nostra pratica per la nostra per il nostro benessere e per la connessione che ricerchiamo con la natura le piante sono delle ottime apri porta per questa connessione perché sono proprio la parte più più visibile di quella che è il mondo naturale più degli alberi quindi per esempio il tarassaco la violetta piuttosto che la foglia di ortica o di foglio sono quegli elementi che immediatamente fin da bambini noi riusciamo a identificare e sono quelle quei codici che con quella natura ci parla e con i quali possiamo approfondire sempre di più questo aspetto quindi iniziare a tornare in natura a fare esperienza delle piante a toccarle ci può aiutare tantissimo per tutti questi aspetti riconnessione radicamento ovviamente e conoscenza chiaramente delle piante che poi andremo ad utilizzare il mio consiglio è quello di non strafare ovvero imparare a riconoscere delle piante in maniera soft per evitare di fare confusione anche perché creare confusione può essere un rischio soprattutto perché ci sono delle piante che sono anche velenose e quindi dobbiamo stare molto molto attenti ecco perché è importante affidarsi ad una guida e vi assicuro che fabiola è una guida ottima eccellente saprà rispondere a dubbi saprà rispondere a domande quindi è importante fare queste esperienze in maniera fisica con persone che sono in grado di aiutarci e quindi ti dicevo di non strafare con lo studio delle piante scegli 10 piante all'anno e distribuiscile durante tutto l'anno quindi trova delle piante invernali delle piante primaverili estive autunnali e distribuiscele appunto distribuisci il loro studio per tutto l'arco dell'anno in questo modo ti sarà più facile interiorizzarle conoscerle andarli a conoscere in ogni stagione se sono piante mangerecce potrai assaggiarle se sono piante officinali potrai utilizzarle per le tue tisane altrimenti se sono piante che non si possono assumere sono comunque piante che possono essere compagne di strada per la nostra crescita quindi per esempio ci sono delle piante che sono anche velenose con le quali possiamo interagire a livello sottile possiamo osservarle vederne il fiore dove cresce quindi sempre utilizzando i soliti parametri di conoscenza della pianta ovviamente senza la raccolta e senza l'assunzione entrare in contatto con lei proprio chiedere che cosa può aiutarci a fare nella nostra vita quale energia porta nella nostra vita ecco questo aspetto penso che sia molto interessante da approfondire e lo faremo insieme in questa giornata di raccolta erbe di radicamento di meditazione dove andremo anche a creare un contatto con con le piante che incontreremo se sei interessato interessata a questo argomento a partecipare con noi sappi che gli eventi saranno a pisa a lucca e a livorno e ti invito a partecipare se ti fa piacere perché saranno delle ottime opportunità di crescita insieme nel mondo della strega urbana e attraverso una strega urbana grazie alla presenza di una strega urbana e ti lascio poi tutti i link appunto nella descrizione di questo podcast se vuoi sperimentare iniziare a sperimentare in autonomia quello che ti ho detto questo è un periodo veramente giusto ottimo perfetto per iniziare a esplorare la natura e quello che la natura ci offre inizia a scegliere tre quattro piante in questo periodo e vale a conoscere in natura inizia da quelle facili prova per esempio a trovare dei papaveri il tarassaco l'ortica e mi viene in mente appunto mi vengono in mente queste perché sono poi quelle un pochino più famose inizia a esplorare con loro che tipo di dono portano che energie hanno infatti il tuo erbario il tuo grimorio dove scriverai le loro proprietà fisiche studiando le sue libri chiaramente ma osservando in natura potrai scrivere sul tuo erbario come si comportano in natura vicino a chi stanno stanno al sole stanno all'ombra che tipo di energia ti suscitano questo sarà l'effetto che quella pianta avrà su di te e quindi potrai richiamare quella pianta all'occorrenza quando ne avrai bisogno nella tua vita nella tua pratica è un esercizio molto bello e molto potente di riconnessione alle sorelle piante perché come ti dicevo prima sono davvero una porta per la riconnessione con madre terra è come partire un po dal basso per esplorare poi altri tipi di tipi di esseri altri tipi di connessioni dalle piante possiamo passare agli alberi possiamo poi passare agli animali è un percorso molto graduale ma l'addestramento di una strega è questo è vivere la vita ascoltando e percependo quello che la vita ti offre in quel momento se in questo momento la vita ti offre piante tu stai con le piante e fate aiutare da loro nella tua pratica e nella tua vita spero di averti dato un po di suggerimenti utili nel podcast trovi altre puntate legate appunto alle pratiche delle streghe questa era proprio incentrata sulle piante e sulla tradizione popolare delle piante perché è qualcosa che ricorre molto spesso tra le streghe antiche appunto quella dell'utilizzo delle piante ovviamente perché quelle erano fondamentali sia per la guarigione fisica che spirituale e anche per le streghe moderne sembra essere un'esigenza importante quella di ritrovare la connessione con le piante quindi ti invito a sperimentare questo lato naturale della magia verde e portarlo nella tua vita ci sentiamo nella prossima puntata intanto grazie per essere qui se ti è piaciuto ascoltarmi seguo il podcast per non perderti le prossime puntate e se ti va ad iscrivermi puoi farlo a info chiocciola spiritodellanatura.it ti lascio con un potente intento seme di strega che nella terra dimori tra le radici e le ceneri attende di uscire fuori noi siamo qui in questo tempo moderno per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno